Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese. C'è l'Europa che ovviamente consiglia, a volte minaccia e già ci dice quest'anno però dovreste fare una manovra economica da 10 miliardi di Euro di tasse, ma stiamo scherzando, l'ultima cosa di cui ha bisogno l'Italia per tornare a correre, a crescere, a lavorare e a sorridere sono nuove tasse. Parliamo di quelli che non hanno lavoro, di quelli che fanno impresa e non riescono ad arrivare a fine mese perché pagano più tasse che utili che incassano.